Figlio Diego, bussa la mia porta, che vergogna, ti prego, sono un ciao! Hai visto il figlio? Ma papà, cosa fai? Ma quanto sei bello! No, ma adoro! Ma che bello sei! No! Un applauso a Chiara, che abbiamo finito! Allora, buongiorno a tutti, macchietti e macchiettini, stiamo per iniziare il backstage della nostra canzone Goodbye. Quindi ragazzi, inizialmente vi facciamo vedere dove siamo andati a registrare la canzone, quindi... Buona visione! E che dire, mi raccomando, se non l'avessi ancora fatto, prima di guardare il nostro video vai immediatamente ad ascoltare la canzone e dirci che cosa ne pensi. E nel mentre, guardate un po' quando siamo andati a registrare la canzone. Senti qua, che risponso, sono pronta, ma che tempo ti penso. Questo è perfetto, stiamo fino a qua? Sì. Poi senti quello e non rifai. Sì, posso sentire un attimo il pezzo? Io non lo so che cosa farò. Sì, è vero. Non lo so che cosa farò, ma io devo volare per provare ad imparare. Io, Diego, bussa alla mia porta. Che vergogna di avervi su un certo. La mia voce. Più alta, vai. No, più bassa. Più bassa? Sì. Ok, senti un attimo. Un po' di rimel, ciglia finte. Ok? Ora un po' più alta la voce di Marta. Ok. Poco, 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 poco. Pansata, poco, poco, senti? Canta. Un po' di rimel, ciglia finte, del profumo Chanel numero 5. Senti qua, che ritmo intenso. Sono pronta, macchetta, io ti penso. Non lo so che cosa farò, ma io devo volare per provare ad imparare. È tutto su rossetto. Rossetto, una volta apprendi quello, poi vado solo. Rossetto, rota, lì, rossetto. Literato. Sto crescendo e mi sono preparato. Che dà? La snotta? Rossetto, lì. La rispetto, rossetto. Chiara, Chiara. Anche più vicino, anche più vicino. Quindi devo dire sono figlio Diego, sì. Basta. Bravissimo. Ok, fermo lì, guarda dritto. Sono figlio Diego, sì. Alza però la voce, eh. Sì. Tipo come un maranza. Sono figlio Diego, sì. Sono figlio Diego, sì. Sono figlio Diego, sì. Adesso sì. Sono figlio Diego, sì. 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 Bravo. Allora, ti lascio capire l'entrata, eh. Sono figlio Diego, sì. Se per la fa così ti vado molto bene. Sono figlio Diego, sì. Perfetta. Sono figlio Diego, sì. Hai visto che figlio? Ascolta. Parlami se. Ah no. Guarda, ascolta un attimo Marta. E poi dopo registriamo. Parlami, prego dai. Era bellissimo Parlami. Parlami ti prego. Bravo. Era perfetto. Siamo fratelli, sai. Entra lì un pochino meglio. Me la fai più allegra? Ti voglio bene, dai. Ok, backstage canzone. Abbiamo la nostra chiaretta che la stanno preparando. Mamma. Trucchi e parrucco. Gli altri miei trucchi per fare il videoclip. Sono tutti di l'amore, stai tranquilla. Non ti preoccupare. Ok. Vabbè, ragazzi guardate qua, super attrezzati. No vabbè, adoro. Ok. Diego, guarda che poi tocca a te, eh. Sì. Ok. Sì, sì, anche a te un pochino ti truccheranno. Sì, sì, per forza, eh. E ti sistemano i capelli. Ti fanno un asino rossatore. E poi noi abbiamo qua tutto quanto l'allestimento completo che sta terminando di mettere tutto quanto. Sì, e questa è la cameretta di Chiara. Vabbè, ragazzi, non vedo l'ora che inizino le riprese. E ovviamente vi faremo vedere tutto quanto terminato. Ma papà, cosa fai? Ma quanto sei bello! Guarda che tocca a te tra poco. Quindi mi sa che ti conviene prima te che lui momenti, eh. Io ne ho bisogno. Sì, un po' tanto, ne ho bisogno. Loro che ne hanno bisogno. Loro non ne hanno bisogno. Però come sistemazione, no, ma adoro. Ma che bello sei! Top! Ok, ora tocca a papà Antonio. Mi raccomando, non mi straficiare la maglia. Quella appena stirata, te lo dico. Guarda, l'ho leggermente bagnata pure. Eh, bravo, complimenti. No, una volta che mi piace tanto che sfondo, non mi riesco in un posto diverso. E io non ci auguro che mai fanno. Ad esempio, nello stesso posto, quanti stupi, è vero? Almeno conosci gente, una cosa e l'altra. È un pregio di nuovo. Adesso mi si è anche a tanti per conoscere di nuovo. Adesso mi si è anche a tanti per conoscere di nuovo. Adesso mi si è molto strano. Sì, sì, sei già mi dà fastidio. No, non ti preoccupare, vai. Quello faccialai, quello ho. È vista tutto. Brava. Già l'ho capito. Già mi dà fastidio. Vabbè, o lei è un gruppo. Mi sembra di un cazzo, cioè, da non mi ha distato. No, assolutamente. C'è sempre una prima volta. Sì. Più bianco sono? No, ancora niente. Sei già perfetto così? Beh. Lascio molto carta bianca. Solo base. Non ho completamente trucco. Quindi lascio carta bianca. Sappi che sarò vestita molto colorata. Quindi sia verde acqua, nero e lilla argento. Comunque è un po' di... Ma secondo me, sai che cosa? Basta che gli fai solo la base. Secondo me anche la base è carina. Nel mentre che lei sta pulendo tutti i pennelli, noi andiamo a sbirciare nel backstage della canzone. Allora, che c'è non internazionale? Niente, possiamo iniziare? No. Simone, raga, chi non serve fuori, grazie. Ma Antonio ti ha mandato fuori? È stato cattivo il regista. Mi ha sgridato pure a me. È colpa sua. Allora, siamo pronti. Siamo pronti. Ok, ora si inizia. Il primo Chuck, backstage. Sì, prontissimi. Allora. Vai ragazzi. Allora, basta un po'. Ok. E allora, motore. Partito? Partito. Chuck. 3, 1, prima. 3, 1, prima. 3, 1, prima. 3, 1, prima. Ragazzi, iniziamo. Oggi sei proprio bello, eh. Mamma mia, che gnocchetto, che gnocchetto. Adesso tocca mamma Giulia. Ne vogliamo parlare? Ragazzi, non è un filtro, sono io. Mi rendete conto? Vabbè, faccio finire e poi vi faccio vedere al lavoro terminato. Ok. Ora vengono a cambiare. Sì? Cambiare. Lilla. Ma lo dici tu ai nostri amici a casa? Cosa? Che è la nostra linea di? A B. Ah, A B. Di appigliamento. Quindi sei emozionata? Sì. Spoylerizziamo qualcosa? Spoyleriamo. Ah, spoileriamo, scusami, qualcosa. Vado a cambiare? Allora, vatti a cambiare. Quale mi metto? E qui. Ragazzi, dal 15 aprile avremo il merch attivo sul nostro shop. Vero Diego? Dimmi un po' che pensi di quella maglia? Mi piace? Bella. Bella? Bene. Quindi mi raccomando, vi lasciamo qua sotto nella descrizione. Link per andare a acquistare il nostro shop attivo dal 15 aprile. Mi vado a cambiare. Eh, vai. Vado a cambiare. Vado Antonio, vedi a chi fa vedere anche la tua maglia? Wow! Vabbè, adesso tra poco invece vedrete l'abbigliamento delle femminucce. No, amore mio! La nostra linea d'abbigliamento che sarà disponibile dal 15 di aprile, ma a breve vi daremo tutti i dettagli. No, vabbè, Chiara, adoro. Dobbiamo andare per a truccare. Vai, vai, vai a truccarti, vai a truccarti. Macchiette, macchiettine, guardate un po' i nostri fantastici libri. Se per caso non avessi ancora avuto modo di acquistarlo, vi consiglio di andare o in tutte le librerie d'Italia, dove li potrete trovare entrambi, oppure nel link qua sotto in Amazon. Quindi, che cosa aspetti? Fammi sapere che cosa ne pensi. Vabbè, ragazzi, io continuo a leggerli. E ora, amici, tocca a noi, soprattutto a me, a cambiarli. Cioè, non mi riconosco neanche, non mi prego. Allora, amici, vi faccio vedere esattamente il nostro abbigliamento. Guardate un po'. Allora, amici, vi stavo dicendo prima, guardate un po', il nostro nuovo look. Difatti, come potete notare, potete anche mettere la spallina così, ok? Con il nostro logo sulla manica e il nostro logo sul pantalone. Guardate un po'. Tutto l'abbigliamento lo troverete disponibile dal 15 di aprile sul nostro shop. Ma tanto, nei prossimi video vi spieghiamo in maniera dettagliata. Quindi adesso vi faccio vedere il completo di Chiara, che ovviamente ci sono un sacco di colori. Io ho deciso di indossare il nero, ma ci sono un sacco di colori che ovviamente vi mostreremo. Eccoli qua, questi sono tutti i colori iniziali. Vabbè, tanto poi vi mostreremo bene tutto. Addirittura ce l'abbiamo anche in argento grigio. Vabbè, adoro. Invece, Chiara è tutta lilla. Sono fatta anche un vetto. Allora, Chiara, vieni un attimo i piedi. Vieni un po' se ti vieni. Vieni un po' se ti vieni. Qua si deve vedere la riga. Vieni un po'. Vieni un po' se ti vieni. Ti volevo dire così. Però non te la posso fare così alta. Deve essere un po' più bassa. Ok. Così. Che bella che sei. Guardate un po'. Pantalone a zampa di Chiara. Lo sta indossando benissimo. No vabbè. Ragazzi, adoro. Se anche voi volete l'abbigliamento di Chiara, incominciate ad andare a vedere sul nostro sito. Che è in lavorazione e dal 15 sarà disponibile. E ovviamente troverete anche i nostri calzini, eh. Ovviamente. No, come no? Perché abbiamo un lente molto stretto. Come vuoi. Vuoi che usiamo un 16? Chiara? Chiara? L'ha detto giusto? Sì, sto con il tempo. Wow. Poi quando provi a fare il mio amore? Ma sei anche bella così, amore, sai? Sì, sì, va bene. Eccomi. No, volevo dire Chiara. Mi sono spogliata. Chiara, dove sei? Chiara. Chiara. Chiara amore. Tocca a te. Devi fare la parte rapper. No, Chiara, devi lasciare fare a Nicole. Tu vieni di là con me. Ok, va bene signorina Chiara? Un po' su. Un po' su. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Sì, 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 sì. Lo so. Wow. Wow. Sì. Ragazzi, andiamo per tirare. Edizionatori. Edizionatori. E... Azione. sta continuando sono venuto a prendere il caricatore 5 musica amici miei buongiorno secondo giorno di riprese backstage videoclip canzone goodbye quindi iniziamo di nuovo questa giornata insieme dove la passeremo da stamattina fino a questa sera quindi mettetevi belli comodi e godetevi il backstage secondo giorno di riprese per i videoclip di vediamo un po domanda chi ti sta pettinando ah allora ti ricordi ah vi ricordate allora bene bene allora agitati per questo come nostra zia bravo 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 ma agitazione ne abbiamo ok fatti un po' vedere gucciola ora mi chiamo il glass dai vai così entri in scena questo qua si andiamo papantonio sei agitato tu secondo giorno di riprese no non tranquilli tu sei agitato wow allora la baby guarda qui siamo a 24 qui la facciamo che canto e poi no a me mi piace che si canta sono arrivate le amiche di chiara che vedrete nel videoclip allora diego tu è quasi finito tra poco entri in scena eh ok abbiamo valeria che viene truccata wow diego guarda che tra poco tocca a te no eh no chiara chiara ti salve ne va la scena è andata a vedere le sue amiche chiara chiara tutti ti vogliono dai ok abbiamo la nostra amica ciami che si sta truccando ha già indossato il nostro completo targato mamma giulia e figlia chiara che dal 15 aprile sarà disponibile in shop online abbiamo una nuova mascotte ciao ti sei messa a comoda eh sì ti sei messa a comoda allora no ma vabbè ma come sei bella eh beh è normale è normale guarda lì che bella che è poi ci abbiamo anche valeria che deve ancora terminare di truccarsi e poi abbiamo lei wow tutto total black no vabbè fantastico anche calzini che troverete fammeli un po' vedere anche neri come quelli che ha diego o anche chiari come hanno tutte le altre femminuce oh ciami non hai ancora messo i calzini è lenta te l'ho detto ah è lenta e lo sapevo ah però vedete che lei ce li ha adesso se li mette chiara decidiamo un po' per valeria il cioè ce la puoi fare allora vorrei fare tipo i boppottini i boppottini i codini no i puccetti i mini chignon i mini chignon ah che tu ah ho capito dei piccoli codini si che qua fai le palle attaccati alla cute la palla da sfera la palla da sfera e allora già l'abbiamo capito ok bene ottimo e noi facciamo uno qua e uno qua e poi lo chiudi con dei fiocchi bene ho scelto tutti gli acconciatori invece per carola si facciamo se abbiamo tempo eh sempre facciamo quattro treccine le chiudiamo e poi facciamo i fiocchi ok va bene benissimo ho scelto tutti gli acconciatori brava no vabbè ma valeria ma sei bellissima lei con il nostro completo color tiffany terza ed ultima alle prese con trucco e parrucco e poi riniziamo anzi noi riniziamo ma loro iniziano per la prima volta a registrare sul nostro videoclip della canzone andiamo a cantare eeeh non è vero tanto bello ok facciamo i canti soliti ma loro dovete urgare stomaco stomaco di no 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 voi voi come io non è vero sì prima qua esatto voi guardate un po' lei un po' al centro e tu sei sempre avanti guardi al centro e arriva piano tu gestiva come fai tu quindi come si fai tu ti dico perché sei troppo forte quindi ok pronti eeeh ma bene eeeh ma bene eeeh ma bene eeeh ma bene chiacchierate che ti guardate tra ti voi non guardate mai noi e andate piano ok mi raccomando piano perché altrimenti ha una certa partito chak quattro tre terza eeeh sette sette azione vai allora adesso prima di questa scena tia mi senti tutti vi dovete solamente divertire Un po' di rimaccia, la finta del profumo Chanel numero 5 Senti qua, che ritmo intenso Sono pronta, ma che taglio ti penso Non lo so, che cosa farò Ma io devo volare per provare ad imparare Mgfc show Vai che si scherza, ora mio Vai Perfetto È il regalo Saludete, saludete Grazie Mi piace così Stiamo per girare la scena dove io apro alle amichette di Chiara per poi iniziare la maxifetta Ok, ora le cuccioline stanno mangiando qualcosina perché poi avrete la pausa di mezz'ora, quindi mangiamo, stiamo tranquilli Ok? Vi state divertendo? Sì Ah, eccola Ciao amore Ma non mi direi che tu sei chiara Ma sei chiara tu? Azione Mamma mia Ti lascio comunque dentro del coso delle luci Facciamo una prova girata, tutti in posizione, musica è pronta Ok Azione Chiudi, non stoppiamo, non stoppiamo E Vado eh Quello ne hai fatto Azione Vai Allora Ragazzi sta per finire la nostra permanenza in questa casa E nel mentre scusate ho cambiato look Ma niente non vi spoilerò ancora nulla perché tutto è nel backstage E nulla Quindi vabbè Noi finiamo di fare un po' di cose E poi arriviamo in macchina quando ci restiamo per andare E vi facciamo vedere la reazione di Chiara e Kiku A questi due giorni favorosi in questa casa Ok Adesso un po' Quello che so che metto il vestito più bello che ho Caschetto corto Esca il mellor Già non posso esco Ed ecco io esco Un applauso a Chiara che abbiamo finito Adesso Chiara domani ricominciamo da capo Amici abbiamo terminato il backstage Spero che questo video vi sia piaciuto Se non l'aveste ancora fatto vai a ascoltare la nostra nuova canzone Goodbye E ovviamente amici niente vi saluto e alla prossima Ciao 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 Chiara Chiara Figlio Diego Buzza la mia porta Che vergogna Ti prego sono un ciao